Investire in azioni è giusto ma è sbagliato, non saltare dalla sedia perché in questo video cercherò di spiegarti perché. Mettiti comodo come sto io nel divano di casa mia e fammi sapere se sei interessato di investire in azioni commentando qui sul canale YouTube così da permettermi di avere nuovi spunti per girare nuovi contenuti utili per tutta la community. In un video precedente che ti linko in descrizione ho spiegato brevemente come funziona l'investimento azionario, quali sono i pro e quali sono i contro. Quindi questo video vuole essere un approfondimento rispetto a quel primo contenuto che ho rilasciato in cui ho spiegato in generale quali sono i vantaggi, le opportunità e quali sono i potenziali rischi a cui possiamo andare incontro se vogliamo appunto investire in azioni. Ora perché ti ho detto che è giusto ma è sbagliato? Perché in quel video ti ho già spiegato che fondamentalmente l'investimento azionario è quello che può dare i margini di guadagno maggiori nel breve termine se ti interessa un'attività speculativa tipo il trading e soprattutto nel lungo termine se come me il tuo obiettivo è quello di vivere di rendita possibilmente prima che sia l'Inps a doverti dare una pensione e quindi punti a far crescere il tuo patrimonio grazie all'interesse composto. Quindi mi chiederai e ti chiederai anche tu probabilmente perché è sbagliato investire in azioni se dici che le azioni, il mercato azionario è il mercato che cresce di più ed è quello che può potenzialmente farmi raggiungere il mio obiettivo prima. Ho individuato almeno tre ragioni che mi sono appunto appuntato e che volevo condividere con te per le quali secondo me è molto spesso comunque dalla maggior parte dei casi sbagliato investire in azioni. La prima cosa è che non è per tutti perché tutti facciamo gli sboroni e diciamo che vogliamo investire, guadagnare, avere rendimenti eccetera però la verità è che il 90% delle persone con cui entro in contatto ha il profilo di rischio da conto deposito anzi nemmeno molte delle persone che seguono affari miei stanno ancora lì a chiedersi ma il conto deposito su quella banca è sicuro, mi devo fidare o cose di questo tipo e tremano molte di queste persone anche se hanno magari qualche BTP in portafoglio e vedono che i titoli calano dello 0,5% quindi non tutti siamo mentalmente predisposti ad assumerci dei rischi, questo vale nella vita e vale negli investimenti se investi nei mercati azionari puoi vedere il tuo investimento crescere esponenzialmente ma lo puoi vedere anche calare esponenzialmente per ragioni che in molti casi potresti addirittura non capire se non sei un insider, se non sei un addetto ai lavori quindi se ti devi creare dello stress, se comunque hai un orizzonte temporale breve, se fai fatica ad assumerti dei rischi perché nella vita stessa non ti sei mai assunto dei rischi più di tanto, l'investimento azionario potrebbe non fare per te soprattutto per un aspetto mentale, poi c'è dell'altro, c'è da dire che potrebbe non fare per te, quindi non essere per tutti perché magari non hai fatto le giuste riflessioni che dovevi fare prima di investire che sono le riflessioni che spiegano ai miei studenti avanzati del programma 100.000€ sul conto quindi magari puoi investire, non ti sei creato una rete di protezione, non hai dei risparmi, non hai delle cose se quei soldi ti possono riservire tra 6 mesi e in quel momento stai perdendo il 20% l'investimento azionario non è per te perché non te lo puoi permettere non ti puoi permettere di andare sui mercati ed assumerti un rischio troppo grande per te quindi il secondo tema importante è che investire in azioni richiede tempo perché? perché se vuoi scegliere le singole azioni, le singole aziende, i singoli settori su cui puntare hai bisogno di studio, hai bisogno di tempo, hai bisogno di risorse, il tempo è denaro quindi ammesso che tu non abbia un patrimonio veramente grande, veramente enorme che giustifichi tutta questa attività, in tutti gli altri casi te lo dico con tutta sincerità come lo dico anche ai miei studenti avanzati, quindi ti sto dando un consiglio gratuito molto importante in tutti gli altri casi o stai perdendo tempo o ti stai trovando solamente un diversivo diverso dal campionato ti senti migliore di quello lì che segue le diatribe domenicali tra Inter, Juve, Napoli, Milan, Roma, Lazio eccetera e ti stai interessando di azioni, ma in realtà se non hai la pecunia, se non hai soldi da andare a investire perdere tutto quel tempo è poco di più che un hobby quindi richiede tempo sia a livello operativo sia ovviamente richiede tempo nel lungo periodo cioè se tu ti aspetti dei guadagni di breve termine probabilmente il mercato azionario non fa per te e il trading che non è investimento così come lo concepisco io è un'attività imprenditoriale o comunque professionale a tutti gli effetti come ho spiegato in tanti altri casi quindi se non vuoi fare trading e vuoi investire in azioni ma non hai abbastanza tempo perché magari sei anagraficamente avanti con gli anni o hai bisogno comunque dei tuoi soldi nel breve periodo probabilmente il mercato azionario appunto non fa per te inoltre il terzo grande motivo per cui investire in azioni è sbagliato è che l'investimento azionario richiede una grande diversificazione come ti ho spiegato in tante occasioni noi non possiamo mettere tutti i nostri soldi in un solo investimento in un solo strumento finanziario e anche se decidiamo per esempio di investire solo in azioni non possiamo mettere tutti i nostri soldi solo in un'azienda o solo in pochissime aziende pensa no? è come se la tua famiglia magari dipendesse solamente da uno stipendio ce ne sono di famiglie che dipendono solo da uno stipendio però il problema è che se ti licenziano puoi stare col cartello in mano a protestare insieme agli altri perché c'è solo una fonte di entrata se vuoi essere stabile devi avere in famiglia almeno due entrate e se vuoi investire sui mercati finanziari probabilmente devi avere tante fonti diciamo di chiamiamola entrata a livello di produzione di dividendi quindi devi investire i tuoi soldi su tantissime azioni il tema è che per avere questa diversificazione è necessario un lavoro e sono necessari dei costi che per cifre inferiori a centinaia di migliaia di euro sono assolutamente inutili cioè se tu hai 1000 euro e vuoi investirle su 10 strumenti finanziari probabilmente non è detto neanche che te li possa comprare perché ci sono azioni anche che costano più di 100 euro più di 200 euro e cose di questo tipo e ovviamente qualsiasi piattaforma tu utilizzi ha dei costi delle commissioni per ogni singola operazione che di fatto su cifre basse pesano percentualmente tantissimo e ti vanno a mangiare il rendimento te la spiego facile se vuoi comprare 3 azioni che costano 100 euro l'una e quindi paghi praticamente 300 euro e la tua piattaforma ti prende 5 euro per ogni investimento di minimo sostanzialmente stai già pagando 5 euro per investirne 300 quindi stai già pagando tanto immagino di averlo fare 10-20 volte se devi comprare 10 diverse azioni di diverse società quindi fare 10 investimenti in 10 società 5 per 10 sono 50 euro che stai pagando solamente per fare tutto questo quindi non è economicamente conveniente su cifre basse se invece sali generalmente le piattaforme ti fanno pagare di meno in generale una percentuale in molti casi e quindi diventa più conveniente ma per essere conveniente visto che devi investire su migliaia di azioni per fare una giusta diversificazione molto, molto, molto probabilmente devi avere centinaia di migliaia se non milioni di euro chi ti dice il contrario ti sta prendendo per fesso cerca di capire tutte le certe cose e te le dico gratuitamente qui su YouTube senza appunto cercare di venderti altro poi è chiaro che se entri nel mio programma avanzato 100.000 euro sul conto mi fa solo piacere però questo consiglio te lo puoi portare a casa gratuitamente inoltre per fare una giusta diversificazione anche in questo caso serve tempo, serve studio quindi o devi andare da qualcuno, devi pagare qualcuno per fartela sostanzialmente oppure devi metterti tu a studiare, approfondire per anni per acquisire la giusta competenza tutto questo ovviamente è assolutamente inutile per capitali bassi che poi sono probabilmente i capitali che hanno la maggior parte delle persone chiariamo che vuol dire capitali bassi se hai 10.000 euro è un capitale basso pure se ne hai 50 e puoi investire in azioni sono pochi soldi comincia ad avere senso oltre i 150-200.000 euro tutto questo quindi per questo motivo sostanzialmente l'investimento azionario duro e puro è sbagliato per quanto sia a livello scolastico giusto ed è per questo motivo che esistono i fondi comuni di investimento i fondi comuni di investimento sono una categoria ampia che cosa fa? investe sostanzialmente in maniera diversificata per conto di più clienti quindi un fondo che raccoglie i soldi di tutti gli investitori e avendo l'ingrosso degli investitori va lì e fa questa operazione che per la singola persona diventerebbe molto costosa ora siccome i fondi comuni sono una categoria non tutto all'interno della categoria è buono, è utile, è da acquistare perché? perché i fondi comuni si dividono a loro volta tra fondi a gestione attiva e fondi a gestione passiva ne ho parlato in tantissime occasioni semplificando i fondi a gestione attiva sono dei fondi dove c'è un gestore che si lancia in operazioni che hanno lo scopo di battere i benchmark cioè di fare meglio dell'indice di mercato che viene preso come riferimento mentre quelli a gestione passiva si limitano a replicare il benchmark per semplificare mettiamo che c'è un fondo azionario a gestione attiva che vuole investire sulle migliori aziende tecnologiche sceglie un indice che magari è l'indice di riferimento dice io mi ispiro a quest'indice qua perché ti deve dare un riferimento per dirti se l'investimento è giusto o sbagliato questo fondo qui va sostanzialmente a fare delle operazioni che abbiano lo scopo di fare meglio di come fa il mercato quindi di battere il mercato oppure mettiamo che c'è un fondo che decide di puntare sulle migliori aziende italiane te la faccio più domestica e quindi più semplice questo fondo che cosa fa? dice il mio indice di riferimento è il Fuzzinib che è l'indice della borsa italiana che identifica le 40 aziende più grandi nel nostro paese se io voglio fare meglio del Fuzzinib quindi per fare meglio del Fuzzinib devo non limitarmi a comprare le azioni delle aziende del Fuzzinib ma devo fare una serie di altre operazioni nel corso dell'anno nel corso del tempo che mi permettano di fare meglio questa è la gestione attiva la gestione passiva invece è data da quei fondi che sono definiti ETF nella maggior parte dei casi sono ETF che praticamente si limitano a copiare l'indice quindi io acquisto un ETF un fondo a gestione passiva sul Fuzzinib sto praticamente comprando un pezzettino di tutte le azioni delle 40 aziende più grandi che ci sono in Italia quale è meglio e quale è peggio? qui si apre un vaso di Pandora enorme e non voglio approfondirlo in questa sede perché mi interessava solamente portarti qui ti lascio in descrizione un link ad un webinar che ho girato qualche tempo fa dedicato proprio agli ETF dove ti spiego la differenza tra gestione attiva e gestione passiva ti spiego perché gli ETF sono da preferire rispetto ad altre forme di investimento anche azionario, duro e puro come ti sto spiegando e ovviamente ti lascio questo riferimento per approfondire perché il discorso è molto lungo e non voglio appesantire questo video quello che dobbiamo portarci a casa da questo video è che fondamentalmente investire in azioni è corretto da un punto di vista scolastico se abbiamo un orizzonte temporale di lungo termine e se abbiamo una propensione a rischio medio alta è però sbagliato investire in singole azioni ammesso che non siamo milionari e appunto dobbiamo fare un asset allocation più aggressiva perché fondamentalmente appunto l'investimento azionario non è per tutti perché possiamo non avere soldi o non avere abbastanza propensione a rischio richiede del tempo che potremmo non avere o potrebbe non essere sensato da utilizzare in virtù del patrimonio che abbiamo e quindi dei guadagni che possiamo avere e richiede una diversificazione che potremmo non essere in grado di fare o che potrebbe essere semplicemente impossibile per tutti quanti noi perché appunto diventerebbe praticamente tecnicamente ed economicamente inefficiente e insostenibile ti ripeto, per approfondire questo discorso ti consiglio di guardare il webinar che ho registrato sugli etf in questa sede volevo completare il discorso sulle azioni spiegandoti praticamente perché secondo me dovresti starne alla larga se hai pochi soldi o se comunque non hai abbastanza tempo o non hai abbastanza propensione a rischio fammi sapere cosa ne pensi di questo contenuto iscriviti se mi stai guardando su youtube qui in basso cliccando la campanella per ricevere le notifiche degli ultimi video che pubblico o iscriviti al podcast di Affari Miei se mi segui in versione audio alla prossima, ciao!